Non potendo sfruttare l'impianto della nave sul quale Greengrass è al lavoro, l'Arezzo ha svolto l'allenamento pomeridiano del mercoledì sul sintetico del Buon Conte da Montefeltro. Unico assente Paolo Grossi, che non ha preso parte alla seduta, mentre Massimiliano Benassi, che aveva iniziato a lavorare sul campo insieme ai compagni, dopo pochi minuti si è accomodato in panchina. Il problema fisico del numero 1 Amaranto ha costretto Benassi a ricorrere alle terapie del caso. Ecco allora aggregati al gruppo della prima squadra anche Manuel Margherito, portiere della Berretti, e l'attaccante Marco Ricci degli allievi. Sul campo sottili ha diviso all'inizio la rosa in due gruppi, incentrando il lavoro sulla fase difensiva. Spazio poi di una serie di partite alla tema su campo ridotto. Domani l'Arezzo tornerà in Valdichiana. In gruppo anche Zach Muscat, che a fine allenamento ha raggiunto il resto della squadra. Il difensore mantese, reduce dal doppio impegno con la propria nazionale, ha poi svolto un lavoro personalizzato allo stadio. La prossima settimana sarà quella anche che potrebbe vedere l'Arezzo tornare al lavoro nuovamente in città. I tecnici del comune di Arezzo sono infatti al lavoro sul campo di Pratantico. L'impianto era nella disponibilità dell'Union Tinchimera prima della chiusura per fallimento, così come il centro sportivo Le Caselle, che il comune dovrebbe affidare al club Amaranto entro la fine di ottobre. Grazie. Grazie.